buongiorno ragazzi il mondo sta cambiando e ce ne accorgiamo anche da questi particolari guardate cosa ho trovato una cabina elettronica della team e c'è scritto questa postazione sarà dismessa dal 1 10 2023 praticamente stanno togliendo tutte le cabine che sono un po obsolete e fuori diciamo la moda quindi d'ora in poi io avrai un cellulare o per strada non potrai più telefonare no saremmo tutti tracciati sotto controllo perché le cabine telefoniche verranno dismesse e quindi o c'hai un cellulare o se sei un poveraccio che magari c'aveva una scheda da 10 euro non potrai più chiamare questo è il mondo che avanza e a me fa molta nostalgia togliere le cabine telefoniche mi ricordo quando avevo 18 anni andavo sotto casa aspettando le otto e mezza di sera per telefonare magari un interurbana e il mondo non c'è più quel mondo lì perlomeno un abbraccio grazie a tutti